Ciao, benvenuto o benvenuta su I Love Photoshop, il canale che dal 2008 su YouTube si dedica alla fotografia e alle elaborazioni fotografici. Rimani nei prossimi 10 secondi, guarda le immagini che seguiranno e poi ti spiegherò il tutorial. Queste sono solo 5 delle elaborazioni che anche tu puoi realizzare. Oltre 300 tutorial sono già disponibili e ogni mercoledì ne carico uno nuovo. Tutte le spiegazioni sono semplici e applicabili, i progetti sono completi dall'A alla Z e troverai soluzioni creative per farti ispirare, con la mia passione e competenza insieme alla mia professionalità di fotografo. E per finire, l'invito ad iscriverti al canale. Grazie. 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 Grazie.